E' un'altra cosa che mi piace questo contatto, perché imparo molto, anche dalle ricerche I suoi occhi già a due anni sono incredibili, con una incredibile profondità, una maturità, un miliardo di persone Mi è capitato di vedere degli insetti con i quali mi sento allineato nella percezione l'uno dell'altro Nella percezione l'uno dell'altro, senza sostenibilità Nella percezione l'uno dell'altro, senza sostenibilità Nella percezione l'uno dell'altro, senza sostenibilità Perché siamo invernamente immutati No? 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 Non di più yeah e per me la natura è come è il luogo con cui ho la vera comunicazione E mi piace questo contatto, perché imparo molto anche dalle lucertole I suoi occhi già a due anni sono incredibili, una incredibile profondità, una maturità. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!